E ci prepariamo per il prossimo gruppo. Non so. Vuoi un cellulare? No, dai, dai. Loro sono Mirjana, Michael e Marco che iniziano gli amora Starlord e Dragster I Guattiani della Piazza! Io invece credo il contrario. Per questo mi sto scusando, quindi scusa. Gamora non è la donna per te, quello. Tu quanto ti fidi di me? Mi fiderei molto di più se mi dicessi che cos'è questa. Non lo so cosa sia. Se fosse un'arma dovremmo usare. O solo te, assassina! Ti ho risparmiato una volta, princesa! Io non sono una princesa! È la mia nave! E nessuno ammazzerà nessuno qui sopra. Abbiamo un accordo, ma... Io ho un piano! Che percentuale di un piano pensi? Tu non hai diritto di fare domande dopo la stupidaggine che hai fatto a Nowhere! Ho appena salvato Quir! Abbiamo stabilito che distruggere la nave su cui sono non è salvato! Quando è stato stabilito? Tipo tre secondi fa! Non stavo ascoltando, avevo altri pensieri. Ragazzi! Avanti! Serte! Il posto è chiudo. Se guardo tutti noi, sapete cosa vedo? Dei perdenti! Sì, insomma! Nel senso, di persone che hanno perso qualcosa. Ed è così, altro che essere così! Tutti noi! Di solito la vita si prende più di quanto dà, ma non oggi. Oggi ci ha dato qualcosa. Ci ha dato un'occasione. Per fare cosa? Per non fregarci. Ho vissuto una gran parte della mia vita circondata dai miei nemici. Sarò contenta di morire insieme ai miei amici. Se sei un uomo d'umore qui, io combatterò al tuo fianco. E alla fine, rivedrò mia moglie e mia figlia. In questi anni difficili, ricordate, noi siamo .. unstimigli .. Grazie I quartieri di la Galassia. Oh! Che cosa? No, no, cosa? Non ha capito, non ha capito cosa ha diviso. Ah! Sarebbe! Pensavo vedere che bella. Ma come... Io non sono l'altro. Non lo so, ti prego. Grazie mille ragazzi che c'ha la spada, scusa. Capitelo. Non disturbare la povera cannona. Grazie ragazzi, avvicinatevi alla giovia. Ginko? Ehi! Non dirlo più Dragon Ball, per favore.